ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale eufonews oggi torniamo a parlare di archeologia del mistero ed in particolar modo torniamo a parlare di mummie ritrovate o così si presume che risalirebbero ad un'epoca molto lontana e addirittura un popolo venuto dallo spazio che oggi conosciamo come yannunaki ovviamente se volete saperne di più in linea generale ma anche con un pizzico un ballone di approfondimento potete andare a vedere un precedente video qui sul canale eufonews che parla proprio esclusivamente del popolo degli yannunaki degli dei scesi dal cielo a cui naturalmente non escludo anzi è molto probabile faranno seguito altri articoli e altri video di approfondimento poiché l'argomento è davvero vasto ma vi invito intanto a vedere quello prima di proseguire con questo video o comunque di farlo successivamente prima di procedere però mi interessava comunicarvi una cosa e ovviamente invitarvi a seguire il canale eufonews seguire il sito internet e seguirci su tutti i social ma soprattutto mi interessava ricordarvi l'email per le segnalazioni dei vostri avvistamenti ufo ed eventualmente anche segnalare dei fenomeni paranormali ripresi o fotografati e ovviamente qualora voleste segnalarmi degli argomenti che magari ho dimenticato di trattare o di cui non sono a conoscenza ma che volete invitarmi a trattare perché lo ritenete importante opportuno qui sul canale eufonews segnalate pure a gabriele lomb75 e chiocciola gmail.com ovviamente con il 75 scritto a numero vi ricordo che potete seguire gli approfondimenti di alcuni dei video e naturalmente leggere i miei articoli sul sito internet www.statodiemergenza.com ovviamente una volta fatte le segnalazioni ci potrebbe essere la possibilità che alcuni di questi avvistamenti che mi segnalate superino ovviamente i dovuti controlli e vengano pubblicati volevo farvi sapere che naturalmente i vostri avvistamenti ufo hanno la precedenza su tutti gli altri video così qualora mi segnalaste dei fenomeni paranormali e ovviamente qualora ci siano delle importanti rivelazioni delle importanti notizie che io ritengo di dover divulgare nell'immediato o al massimo a distanza di qualche giorno invece di novità e questa è la comunicazione che vi devo dare ci sarà che prossimamente farò più video tratterò più spesso gli argomenti che riguardano la tipologia di extraterrestri la tipologia di oggetti volanti non identificati e vi annuncio che ci sarà a breve anche qualche approfondimento e ritorneremo anche a trattare alcuni argomenti che abbiamo trattato senza naturalmente trascurare eventuali video che si ritengono essere necessari per chiarire determinate situazioni sospette, casi chiusi o eventi e fenomeni che avverranno in questi momenti naturalmente adesso andiamo finalmente all'argomento che vi sto facendo attendere che è quello del ritrovamento di una mummia che alcuni studi avrebbero identificato addirittura come un gigante degli annunaki del popolo dei dei sumeri e che risalirebbe a non meno di 12.000 anni fa cioè ad un'epoca prediluviana ricordiamo che l'epoca prediluviana secondo la maggior parte degli esperti dell'argomento che si tratti di archeologi alternativi, storici alternativi, esperti di parascienza eccetera ma anche a volte di personaggi del mondo accademico, scientifico e archeologico parlano del 10.500 avanti Cristo quindi il periodo esatto sarebbe proprio quello del diluvio e in questo canale ho già trattato l'argomento quando abbiamo parlato della principezza Tziluchi e comunque la pronuncia siberiana è alquanto difficile una mummia che addirittura si parlava di 800 milioni di anni del momento in cui questa era stata seppellita ovviamente come abbiamo visto nel video ma soprattutto nell'approfondimento molto più lungo e che tratta anche al suo interno di altre mummie ritrovate in Siberia, negli Urali comunque nella zona della Russia orientale dove praticamente si fa luce sul caso o almeno in gran parte e vi invito a vedere anche questo video che lo ritengo importante per quanto il titolo possa trarre in inganno facendo pensare che viene trattata la notizia come qualcosa di assolutamente vero, incontestabile eccetera ma vi ricordo che a volte i titoli devono essere sintetici e nell'essere sintetici non sempre si può essere chiari ma bisogna invece essere intuitivi e diretti ovviamente rientrando nell'argomento di ora stiamo parlando di qualcosa che già da qualche anno dal 2008 in particolar modo viene considerato un fatto cioè il ritrovamento di questo gigante di questa mummia Nunai che in perfette condizioni con la sua tomba parzialmente fatta di minerali sconosciuti di un vetro, un cristallo super tecnologico e all'interno dei quali ci sarebbero dei manoscritti ci sarebbero dei libri d'oro ci sarebbero delle statue addirittura delle attrezzature tecnologiche ma con una tecnologia a noi sconosciuta e non riconoscibile come tecnologia diciamo elettronica o di questo tipo ma piuttosto una tecnologia composta da oggetti da strutture a noi sconosciute ma prima di addentrarci sull'argomento rimaniamo un attimino con i piedi per terra e vedremo che poi pian piano andremo ancora di più con i piedi per terra e mi baserò su un mio personale scritto che andrà in pubblicazione sul sito come approfondimento con delle immagini in specifico eccetera eccetera sul mio sito www.statodienagenza.com naturalmente successivamente qualche giorno, qualche settimana dopo la pubblicazione di questo video dove per l'appunto si parla di questa mummia ritrovata nel 2008 in Iran nella cui unica testimonianza in realtà sarebbe dovuta a un video che nel 2008 è diventato immediatamente virale è arrivato a fare quasi un milione di visualizzazioni ma è un video in russo in cui tutti i dati negli anni sono stati gradualmente rimossi e l'unico modo per poter diciamo accedere alle informazioni di questo video è o capire direttamente tradurre direttamente il russo oppure accedere come ho dovuto purtroppo fare io alle informazioni di quei pochi articoli che ancora parlano dell'argomento uno in particolar modo in lingua straniera che potrebbe essere definito a tutti gli effetti quasi un libro che tratta questo video questo argomento questo ritrovamento nei minimi dettagli ma talmente dettagliato da non averlo ritenuto così significativo ai fini di divulgazione in questo senso attraverso un video dove per spiegare alla fine delle cose che come vedremo nell'arco del tempo di questi minuti non ne vale assolutamente la pena e naturalmente stiamo parlando di qualcosa di talmente dettagliato che richiederebbe ore e ore per poterlo discutere naturalmente un lavoro dietro le quinte per la realizzazione del video con l'estrapolazione di tutta una serie di immagini da ingrandire da lavorare eccetera che sinceramente non è fattibile non almeno al momento allora secondo quelle che sono le informazioni che in qualche modo sono arrivate alla mia attenzione già molti anni fa ma che adesso ho deciso appunto di divulgare perché entrando in possesso di un video con una qualità leggermente superiore ho avuto la possibilità anche di analizzarlo seppur non dal punto di vista della sua veridicità in quanto non video originale comunque per le caratteristiche contenute che hanno avuto degli esiti interessanti il sarcofago fu ritrovato durante una presunta missione dell'URSS quindi dell'ex Unione Sovietica così come sarebbe avvenuto anche per la mummia di Osiride o dell'antico viaggiatore di cui trovate il video qui sul canale UFO News e che naturalmente è un video interessante un video discutibile ma che tratta anche in questo caso un presunto viaggiatore spaziale che sarebbe deceduto e sarebbe stato chiuso all'interno di una tomba in un sotterraneo e poi ritrovato appunto da una missione del Chiege Bay in questo caso che si sarebbe svolta in un periodo non ben dichiarato la notizia trapella grazie a questo video che nel 2008 dichiara oltre a far vedere le immagini che i ricercatori che hanno avuto la possibilità di analizzare la mummia e tutta la struttura l'ambiente la bara e tutto quanto di garantire risultati tramite addirittura test scientifici che corrispondono ad un'antica razza che si insediò sul nostro pianeta migliaia di anni fa dichiarando che questi siano i famosi annunachi tanto discussi dai sumeri attraverso le tavolette di argilla scritte in carattere cuneiforme talvolta anche illustrato pare inoltre che la bara rivenuta nel Kurdistan irecheno quindi viene identificata una zona più precisa entro cui è stato fatto il ritrovamento dopo alcuni scavi effettuati sotto un edificio questa notizia mi ricorda anche un altro ritrovamento che è stato fatto nella stessa probabilmente zona a distanza di diversi anni e che per ora sta circolando e non escludo potrò trattare in futuro sembra che in realtà la mummia della ripresa non sia l'unica che è stata trovata ma che in diversi periodi negli stessi scavi siano state trovate di più di una anzi parecchie di queste bare tecnologiche con all'interno corpi perfettamente conservati degli dei annunachi ma dove sono i corpi e le bare da dove hanno preso queste informazioni coloro che ne parlano in rete ovviamente da quel testo scomparso dal video ovviamente dalla traduzione dal russo dell'audio del video ovviamente poi la notizia divenuta virale viene in qualche modo convogliata nei vari ambienti misterici complottistici ufologici ma anche nell'ambiente giornalistico ufficiale attraverso una serie di articoli di persone assolutamente incompetenti che non prendono minimamente informazioni sulle origini del video o che se ne parlano non prestano le giuste attenzioni a determinati eventi che ruoteano intorno a questa presunta scoperta ma andiamo avanti questi giganti sempre secondo questi ricercatori sarebbero rinchiusi dentro delle bare che hanno una cupola di un cristallo assolutamente strano non conosciuto come materiale nella sua parte superiore definito blocco di vetro intelligente ma non viene spiegato il perché intelligente come ad isolare queste mummie da contaminazioni dell'aria insieme a tutta una serie di strumenti gioielli e corollari ovario che vengono in qualche modo associati a un mago che si presume sia esistito e che si chiamava Jaromir e che secondo degli studi comparati fatti da queste persone che hanno dedicato e speso tantissimo tempo e tantissima carta tantissima scrittura sostengono in realtà si chiami Jaromira quindi che la parola sia scritta diversamente sia suddivisa in un nome e in un cognome che sarebbe slavo e che significherebbe letteralmente biologicamente attivo ad indicare che la mummia in realtà non si trova mummificata per come noi intendiamo cioè in uno stato di mummificazione dovuto ad un sistema chimico o di qualunque altro tipo che abbia in qualche modo mantenuto quel corpo deceduto con una forma pressoché simile se non addirittura identica a quando era vivo ma in pratica si trova in una specie di stasi o di letargo potremmo dire che non lo ha fatto invecchiare se non di qualche giorno accanto al sarcofago vengono ritrovati anche dei testi ricoperti da pagine d'oro la cui datazione risalirebbe al XII secolo questa affermazione in qualche modo già di per sé dovrebbe far suonare ancora di più il campanellino d'allarme e dovrebbe indicare che c'è un'incongruenza tra il XII a.C. e il XII secolo ma non si parla della datazione dei contenuti della bara che sarebbero ovviamente più importanti forse della stessa mummia in quanto non essendo composti da materiale organico il decadimento fisiologico delle particelle delle molecole eccetera sarebbe molto inferiore la teoria ufficiale è che si tratti di un'antica razza aliena di costruttori che utilizzavano una tecnologia di cristalli e qui naturalmente sembra che stiamo sfociando sulla storia presunta naturalmente degli atlantidei di cui Platone ci ha parlato nel Crizia e nel Timeo e su cui sono state costruite un'infinità di storie di interessanti teorie ma anche di panzane questa tecnologia contrastava il flusso del tempo e pertanto 30 minuti al suo interno secondo alcune stime di questi scienziati corrisponderebbero a 30 anni al di fuori di essa una teoria affascinante ma molto improbabile che ricorda quella secondo cui la camera del re della piramide di Cheope avrebbe proprio questo scopo e che ci ricorda proprio parlando di Annunaki l'evento in cui il dio Marduk perdendo la battaglia contro i figli di Anu va a essere rinchiuso proprio dentro la camera del re nella piramide di Cheope che sarebbe stata una prigione con sette porte dove però il tempo gli avrebbe concesso di rimanere con le sue sembianze senza invecchiare in sostanza 12.000 anni equivarrebbero a 12.000 minuti e in un anno solare ci sono 525.600 minuti tecnicamente quindi questa mummia è in letargo da poco più di una settimana ovviamente la cosa sembra ridicola ma scientificamente parlando se ci vogliamo anche proiettare in quella che è la scienza del futuro attraverso il mondo della fantascienza possiamo pensare alla crioibernazione alla criostasia a tutta una serie di invenzioni fantascientifiche ma che la scienza effettivamente sta studiando e che una forma di vita extraterrestre aliena potrebbe aver già scoperto e magari potrebbe utilizzare ormai da tanto tempo esistono quindi numerose prove di resti di giganti ritrovati in tutto il mondo anche se la maggior parte delle fotografie che circolano sono assolutamente dei fake che andrebbero scartati e che dovrebbero essere trattati da gli esperti e messe alla gogna ogni qualvolta riemergono perché vanno a rovinare il lavoro dei nuovi studiosi ufologi serie molti testi mitici sacri come anche la bibbia il vecchio testamento naturalmente ma miti e storie di tutte le culture parlano di giganti che camminano tra gli uomini anche nella cultura classica anche nelle religioni e nei miti europei ed italiani i giganti hanno un ruolo importante sono sempre presenti che in qualche modo associati proprio a quelle divinità dall'aspetto umano come gli anunaki giganti che però vivono nei propri templi e vengono adorati ma sono in carne ed ossa dagli esseri umani all'interno di queste strutture quindi siamo davanti ad una scoperta incredibile dove una mummia in ipersonno quindi svegliabile e quindi la si può fare ritornare da questa stasi in vita di un popolo che finora era stato solo miticizzato gli anunaki è assolutamente veritiero e ci ricorda nel suo modo di essere ibernato in questa struttura parzialmente di vetro cilindrico con i gioielli con i libri in questa stanza con tanti altri corpi la famosa camera della vita imputata agli rettiliani tra virgolette presunti creatori dell'umanità così come anche gli anunaki ed è scritta dagli addotti sotto i penosi regressiva in alcuni casi naturalmente non sempre nel mondo dell'ufologia che si interessa in modo preciso delle interazioni aliene sulla questione del perché questi giganti altri esseri umani siano stati messi in ipersonno non ne hanno la più pallida idea e fanno bene a non sbilanciarsi perché naturalmente non si può sapere quali intenzioni c'erano dietro un'azione di qualcosa di cui non siamo a conoscenza ovviamente ci sono tantissime ipotesi che stanno circolando ancora a distanza di tutti questi anni alcune più interessanti la maggior parte a sud come mi abitudine fare io però in questo caso specifico così come in altre investigazioni dove ho la possibilità di accedere ad informazioni attraverso studiosi che hanno maggiori competenze di me in determinati settori ma soprattutto amici di cui mi fido e che so che quando dicono qualcosa lo dicono con cognizione di causa e conoscono perfettamente l'argomento di cui io gli sto facendo delle domande ho chiesto alla mia amica Antoine Gigal studiosa di antichità del popolo orientale in particolar modo dell'Egitto conoscitrice di molte lingue orientali antiche e moderne tra cui naturalmente l'egiziano tra cui il persiano e via discorrendo è egittologa di fama internazionale con diciamo una giusta apertura mentale verso quelle che sono le diciamo incongruenze dell'archeologia tradizionale e l'apertura mentale verso quelle cose di un'archeologia non convenzionale non accademica che invece in qualche modo possono essere una soluzione migliore più sicura e addirittura anche più intelligente a volte rispetto all'archeologia accademica ho chiesto ad Antoine se conosceva il video e mi ha detto di sì questo è avvenuto già qualche anno fa e naturalmente gli ho chiesto cosa ne pensava mi ha detto che non era minimamente interessata a discutere l'argomento che non era minimamente interessata a rivedere questo video e che si tratta di un falso si tratta di un falso di cui non si conosce l'origine precisa si sa che è stato creato appunto in Iran forse con la volontà di attirare l'attenzione e quindi anche soldi oltre che ricercatori sul posto per effettivamente portare a fare degli scavi eccetera quindi chissà che magari in quelle zone non ci sia realmente qualcosa di interessante e chissà se e quindi in tutta questa storia c'è realmente qualcosa di concreto d'altra parte però io non mi fido al 100% neanche del giudizio degli esperti nell'amicizia eccetera e ritengo sempre opportuno di affidarmi a più fonti di fare le mie ricerche personali e soprattutto di arrivare alle mie conclusioni attraverso quelle investigazioni e naturalmente le possibilità di fare le cose naturalmente con i limiti dovuti alle varie situazioni in questo caso di certo non andavo in Iran a fare tentativi di rilevare la cosa e di prendere informazioni ovviamente siamo davanti a qualcosa che comunque sin dall'inizio mi puzza anche se la mummia sembra essere coerente i gioielli sembrano essere veri avere quelle piccole imperfezioni che naturalmente i gioielli di un'epoca fatti a mano antichi con un oro più grezzo eccetera eccetera avevano quindi tutte le caratteristiche possibili che possono essere viste attraverso il video coerenti interessanti ma senza alcun riferimento reale concreto a questi studi a questi ricercatori al gruppo di studi all'entità che ha portato avanti queste ricerche all'interno probabilmente di un governo di un gruppo scientifico di uno staff un team eccetera e naturalmente parliamo di qualcosa che non può essere provato perché ovviamente i dati le informazioni del KGB dei servizi comunque segreti ex sovietici di molte spedizioni segrete in tutto il mondo sono rimasti segreti o sono andati perduti con la vendita degli archivi con la distruzione degli archivi e via discorrendo naturalmente può essere tutto qualcuno addirittura sostiene che queste mummie un giorno si sveglieranno e che prima o poi si aprirà un portale che ci porterà in un'altra dimensione e una volta che avremo accesso a quest'altra dimensione e automaticamente queste mummie tutte quante ritorneranno in vita e ci condurranno verso qualcosa di migliore sinceramente non credo minimamente in queste cose ma non perché non voglia credere alla questione spirituale alla questione mistica oppure perché semplicemente non ho avuto riscontri oggettivi nella ricerca delle prove ma perché ho voluto fare appunto un'analisi del video quello che ho scoperto è molto interessante all'interno delle immagini e quindi ci apprestiamo ad arrivare alla conclusione di questa indagine naturalmente di questo video ho trovato non solo delle incongruenze ma soprattutto dei segni che quello che stiamo vedendo non è un corpo reale o almeno è molto improbabile che lo sia perché comunque potrebbe essere stato un corpo che ha subito delle manomissioni delle ferite rimediate eccetera eccetera ma questo ci indicherebbe che non si tratta assolutamente di una mummia fantascientifica di una mummia che sta dormendo in criostasi eccetera ma semplicemente di un corpo deceduto e mummificato così come tutti gli altri ma è molto più probabile che proprio per alcuni segni che ho trovato in alcune immagini l'oggetto diciamo organico in realtà sarebbe una scultura una scultura discretamente realizzata ma che mostra in due o tre parti del corpo proprio quegli errori tipici grossolani di un qualcosa che è rimasto grezzo in alcune parti e che va quindi ripreso ad una certa distanza mai troppo vicino se non con uno zoom che ne diminuisce la qualità dell'immagine e in un ambiente che è quantomeno parzialmente oscuro inoltre in una spedizione di questo tipo avremmo avuto la possibilità di vedere attraverso le persone che hanno fatto la scoperta sicuramente maggiori particolari sicuramente avrebbero tentato visto che non si trattava di archeologi professionisti di scienziati eccetera avrebbero tentato di togliere la veste per scoprire la parte sottostante della mummia eventuali gioielli e soprattutto la spada che è possibile vedere questo non viene fatto probabilmente perché la parte inferiore della mummia non è assolutamente definito e quindi ci avrebbe fatto scoprire immediatamente che si trattava di un falso non è la prima volta che questo avviene e purtroppo non è facile capirlo se non si hanno competenze di tipo artistico ed io ho fatto cinque anni di liceo artistico ho usato la plastilina ho usato l'argilla ho usato il gesso diversi materiali plastici e quindi son riconosce un'opera artistica che viene spacciata per un corpo umano mummificato anche quando ci sono tutte quelle caratteristiche che permettono di mantenere il più possibile agli occhi indiscreti nascosta la verità spero che il video sia stato di vostro gradimento vi ricordo di mettere un like e naturalmente iscrivetevi al canale attivate il campanello se volete essere avvertiti ad ogni nuova uscita qui sul canale UFO News ciao a tutti da Gabriele Lombardo UFO News ci vediamo alla prossima buona navigazione ciao